Buongiorno a voi. Direttore, voi lavorate su incarico del Ministero dell'Interno. L'agenzia esiste dal 2010 ma nell'ultimo anno ha incrementato la sua attività. Come vediamo dai numeri? Vediamoli anche a pieno schermo perché sono numeri importanti. Dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2019 sono stati confiscati 2587 immobili. Lei ricopre questo incarico da febbraio. Sotto il Ministro Salvini avete raddoppiato il personale a 200 unità dalle 30 iniziali del 2010. È più che un raddoppio, devo dire. A maggio è stata inaugurata la sede di Milano, un investimento importante. Sì, abbiamo fatto diverse cose. In realtà noi abbiamo avuto dalla legge del 2017, questa legge che ha incrementato, rafforzato l'attività dell'agenzia, un ampliamento di organi. Stiamo lavorando a costruire questa più forte agenzia per i beni confiscati con l'obiettivo di velocizzare la destinazione dei beni che è uno dei più grandi obiettivi che si pone la nostra amministrazione. Quello di fare in modo che questi beni possano ritornare alla collettività prevalentemente per usi sociali ma non solo per usi sociali perché poi questi beni vengono anche destinati a scopi istituzionali. Possono diventare sede di un comando dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, possono diventare un bene che viene destinato per esempio alle donne che sono vittime di tratta o ragazzi che hanno dei problemi di disagio. Quindi ci possono essere scopi istituzionali e sociali ma quello che prevale è la restituzione al territorio di quanto è stato tolto al territorio attraverso la violenza della mafia. Ecco, la mafia mette le mani su alcune regioni più di altre. Allora ci sono dei dati che magari possiamo commentare e analizzare insieme. Le prime tre regioni dove gli immobili sono destinati sono la Sicilia con 6.240 seguita dalla Calabria e la Campania, dunque il sud. Sì, in effetti quel grafico dimostra, quella tabella dimostra esattamente questo, che abbiamo una maggiore concentrazione di beni. Il dato si riferiva agli immobili già destinati, già trattati dall'agenzia e destinati agli enti territoriali, agli enti di governo locale, eccetera. Sicilia, Campania e Calabria, quindi le tre regioni che hanno delle mafie autoctone, Cosa Nostra, Camorra, Andrangheta, ecco, che vedono il numero maggiore di beni, la concentrazione maggiore di beni. Direttore, voi lavorate a stretto contatto con il territorio perché di fatto poi restituite a quel territorio il bene confiscato, viene utilizzato per scopi sociali e istituzionali. Allora la nostra Danila Filippone è andata al giardino della legalità di Roma, importante perché nasce dal sequestro di un immobile confiscato al tristemente noto clan dei Casamonica. Romanina, periferia sud-est di Roma, sono molti gli immobili sequestrati dall'agenzia beni confiscati. Proprio di fronte alla villa abbattuta dalle ruspe, oggi è sorto un parco e di fronte a un altro progetto importante. L'Anx ha partecipato al bando due anni fa e siamo riusciti a risultare vincitori. Questa villa diventerà uno spazio polifunzionale in cui accoglieremo i ragazzi nello spettro dell'autismo, però il focus iniziale sarà proprio sul cercare di porre rimedio a quello che è un grande buco istituzionale, il dopo scuola, cioè il fine percorso scolastico. Quindi i ragazzi in età, i giovani adulti diciamo nello spettro. Quando siete entrati com'era la casa? Tutto finto, poi alla fine. Sì? Tutto intorno, tutte queste cose qui sembra marmo, ma in effetti è tutto finto, è tutto polistirolo. Qui è tutto frutto del vostro lavoro, giusto? Sì, è tutto frutto delle nostre domeniche. Abbiamo rifatto tutta la giunteggiatura, tutti i lavori che potevamo fare noi. Abbiamo già preparato varie sale che diventeranno i nostri laboratori. Di fronte a questo stabile è una biblioteca in questo momento che voi utilizzate? C'è una piccola stanza di biblioteca con delle sedie, ancora non ci siamo mai entrati, però lo utilizzeremo. Sono tutti beni confiscati dalla criminalità organizzata che quindi fortunatamente la regione ha deciso di mettere a disposizione del bene, come bene comune e quindi a disposizione della cittadinanza per poter diventare qualcosa di utile invece che rimanere beni che poi magari venivano distrutti. Ecco, abbiamo visto beni confiscati che ritornano alla collettività. Ecco, a livello di emozioni, che cosa le comunica proprio questa riconversione del bene in bene? È una grande soddisfazione. C'è una frase che ripeto sempre in questi casi, di dare attraverso queste forme di riuso la dignità del bene che è stata tolta al bene stesso. Quindi restituire questo bene alla collettività e alla legalità significa dargli nuova dignità. So che lei ama parlare con i numeri, allora la regia mi manda una tabella. Si tratta dei primi tre comuni a cui sono stati destinati immobili sequestrati. La vedete, Palermo 1361, Reggio Calabria 348, Napoli 239. Il significato di questi numeri? Il significato è una conferma di quello che abbiamo visto prima con riguardo alle regioni Sicilia, Calabria e Campania, che sono le regioni più afflitte da fenomeni di criminalità organizzata e che quindi anche nella classifica delle città, delle prime dieci città che vedono la concentrazione di beni confiscati, confermano esattamente il dato regionale. Ecco, è un po' questo il senso di quella tabella che abbiamo visto appena. Abbiamo parlato spesso di Sud, abbiamo visto questi dati, alle nostre spalle però c'è una foto, è una villetta che è stata confiscata pochissimi giorni fa in provincia di Torino di un narcotrafficante dell'Andrangheta, giusto? Sì, sì, quella è una confisca per la verità di qualche anno fa, non di pochi giorni fa. È una confisca di Salente a qualche anno fa, una confisca a un noto dranghetista, fortunatamente arrestato dopo anni di latitanza qualche giorno fa. Un dranghetista molto conosciuto per essere uno dei più forti narcotrafficanti del mondo. Siamo qui in Piemonte, San Giusto Canavese, come ha detto lei, e questa è una villa che è stata anche aggredita dalla criminalità organizzata perché ha subito un incendio, la volevano vandalizzare, forse distruggere, non ci sono riusciti fortunatamente. Il bene è ancora lì, ce ne stiamo curando perché siamo adesso in contatto anche attraverso il prefetto di Torino con il sindaco metropolitano, il sindaco Appendino, per utilizzarla per scopi sociali. Dobbiamo completare la procedura, ma stiamo avanzando. Procedura che comporta che tempi? Ma guardi, purtroppo i tempi non sono velocissimi perché ci sono naturalmente delle procedure da fare, cioè bisogna, intanto in questo caso, bisognerà anche sanare degli abusi perché spesso e volentieri questi beni presentano delle superfettazioni abusive, come si dice in senso tecnico. Quindi, per oggi, fortunatamente, anche questo è stato un fatto positivo della legge, il Consiglio Direttivo dell'Agenzia, e io stesso che lo presiedo, possiamo anche chiedere agli enti locali di sanare questi abusi, laddove ovviamente siano sanabili. Duravano anni le pratiche, duravano anni e poi il bene arrivava deteriorato. Ecco, noi vogliamo proprio evitare questo, che il bene arrivi deteriorato, troppo deteriorato, nelle mani di chi poi deve rimetterlo a posto per farlo funzionare per uno scopo sociale o istituzionale. Allora, direttore, lei prima di avere questo incarico ha gestito delle emergenze veramente molto complesse, ricordiamo il terremoto di Amatrice, di Accumoli, era vicino ai vigili del fuoco, che, come sappiamo, hanno lavorato incessantemente per giorni, mesi, settimane. Questa emergenza e questo lavoro vicino alle persone colpite da questa tragedia hanno in qualche modo influenzato il lavoro e le attività che sta svolgendo oggi? Guardi, ci sono due esperienze ovviamente molto diverse. Diciamo che in tutte e due le esperienze, e in genere nel lavoro che facciamo, come prefetti io, e con tanti altri colleghi, quello che ci deve sempre accompagnare il senso di umanità, no? Nelle vicende che ho percorso, quelle del terremoto, del ponte Morandi l'anno scorso, ma anche in queste, perché abbiamo visto prima quella destinazione del bene a Roma a una casa famiglia che ospiterà dei ragazzi afflitti da autismo. Quindi c'è sempre il tratto della vicinanza alla persona, che è in qualche maniera il filo conduttore di queste mie esperienze. Grazie al direttore dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati. Rapidità, abbiamo visto, questa rapidità la porterà a tornare da noi e a darci altre buone notizie. Grazie, grazie per l'invito.